ciao amici del mio viaggio a torino adesso ci troviamo proprio vicini al gradenigo che è un ospedale e così almeno vi faccio vedere più o meno cosa c'è intorno caso mai vi dovesse servire almeno potete vedere a livello visivo come fatto vedete questo è il gradenigo questa è la zona quindi è un piccolo video proprio veloce veloce giusto per rendervi conto che c'è la zona taxi adesso stiamo proseguendo sempre intorno al gradenigo questo è sempre l'ospedale qui dove vedete questa scaletta all'intorno c'è il pronto soccorso poi ci sono due entrate io sono partito prima dall'entrata 8 questa invece è l'entrata 10 infatti lo vedete che lo sto facendo osservare con i vostri occhi e intanto io proseguo diritto fino ad un certo punto perché poi ci sarà una struttura tipo antica che sarebbe in realtà da fare la facciata ma comunque poi lo vedrete come vedete raggiù c'è un pullman che pullman non lo so sarebbe da vedere poi di vicino vediamo un po se si vede se no pazienza va bene lo stesso e intanto vedete che questo ospedale comunque è tutto fatto in paramano quindi non è male dal punto di vista estetico grazie al fatto che ci sono tutti questi ospedali per noi più comodo in base dove possiamo andare insomma in base dove abitiamo ovviamente come in ogni città è logico però che pullman è questo e non l'ho ripreso vabbè sono andato più veloce e intanto osservate questa zona qui a vedete qua questo è il palazzo quello che vi voglio far vedere però da vicino adesso intanto faccio come vedete è stato molto breve era solo così per mostrarvelo e poi niente e poi ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti